Buongiorno a tutti, oggi è il 4 di novembre e come tutte le mattine siamo qui per leggere i giornali, guardare e sfogliare i titoli del Corriere Adriatico, del resto del Carlino, del messaggero. Come sempre però cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Carlo Borromeo Vescovo, quindi un santo molto amato soprattutto a Milano, uno dei protagonisti della riforma cattolica, parliamo di un santo del 1538, 1500 insomma, nacque nel castello di Arona sul Lago Maggiore, terzo genito di una delle famiglie più potenti d'Italia, fin da bambino venne indirizzato alla carriera ecclesiastica. Il sole è sorto alle 6.47 e tramonterà alle 16.56. Vediamo adesso subito il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 4 novembre, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con temperature lieve aumento, eventi di bava dai quadranti occidentali. Il mare sarà quasi calmo, i fenomeni soprattutto durante la notte saranno caratterizzati dalla formazione di foschie, soprattutto nei fondovalle. Domani invece, giovedì 5 novembre, il cielo cambia, le previsioni prevedono anche possibili brevi isolati piovaschi sulle zone dell'entroterra, in Appennino, nella prima parte della giornata. Il cielo sarà quindi nuvoloso con nuvole medio-basse in graduale dissolvimento nel pomeriggio. Le temperature sono in aumento, in particolare nei valori minimi, mentre i venti di brezza leggera dai quadranti settentrionali. Il mare sarà poco mosso. Vediamo invece la previsione per venerdì 6 di novembre, avremo un cielo inizialmente poco nuvoloso, con prevalenza di sereno nel corso della giornata, temperatura in diminuzione, in particolare nei valori minimi. I venti di brezza leggera, il mare sarà poco mosso. Comunque c'è questa rimonta dell'alta pressione che arriva dal Marocco e insomma in qualche regione addirittura si potrà tornare al mare, prendere anche il sole. Vedremo se questo accadrà anche dalle nostre parti. Vediamo invece adesso i giornali. Dunque cresce di giorno in giorno l'attesa per Valentino Rossi, per quello che sarà. Domenica intanto la notizia è che il papà Graziano è già partito in viaggio con il suo pulmino, un pulmino a noleggio. Ecco qua il resto del Carlino, papà Graziano in viaggio stile amici miei. Tavuglia Valencia con pulmino a noleggio. La partenza venerdì, arrivo sabato, stavolta non è una zingarata, dice lui. Perché col pulmino e non con l'aereo? Perché dice Graziano ci siamo decisi tardi e in aereo non c'erano più posti? Però devo dire che non mi dispiace per niente. La fotografia invece di Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro con la maglietta e l'hashtag di Twitter, io sto con Vale. Il sindaco giustamente ne approfitta di questa situazione. C'è la sua omologa di Tavuglia invece che è un po' preoccupata, Francesca Paolucci, la vedete davanti a questo poster gigante. Tavuglia, lei adesso è molto preoccupata, però dice soprattutto perché la sindaca, eccola qua, aspetta la foto, la pagina, sono due pagine, eccola qui. Dicevo la sindaca non ci dorme la notte, ho paura di quanta gente arriverà a un paese in affanno e tanti fan disperati, come raggiungo Valencia? Poi c'è anche la foto di Don Cesare, 94 anni, che tiene in mano uno schema con i circuiti del MotoGP, ma vicino a sé anche giustamente la Bibbia. E l'analisi del Don dipende tutto dalla partenza. Valentino è stato martirizzato, dice, penso anche giocandoci un po', scherzandoci un po', naturalmente, Fioretto del Geometra. Se vince lui vado a piedi fino alla Madonna del Monte, sono tre chilometri, insomma può far solo che bene alla salute. Allora andiamo adesso invece sulla pagina di Fano, perché dalle moto al calcio, calcio sicuro, operazione stadio sicuro, ieri sopra luogo della commissione al Mancini, pronti provvedimenti per prevenire incidenti tra i tifosi, nuovi accorgimenti sui parcheggi e sulle entrate per i sostenitori dopo i fatti della partita contro la San Benedettese. E il caso dei tifosi finisce pure in Parlamento, Lara Ricciati di Sella ha presentato un'interrogazione al Ministro Alfano. Assalto al Codma, oggi la frutta è gratis. Distribuzione per le persone in difficoltà, bisogna presentare il modello ISEE dalle 15 alle 18, al box numero 5, da compilare ci sarà un modulo e quindi chi ha la necessità può andare oggi al Codma. Poi parla l'avvocato di Ciaschini, i ruoli sono da puntualizzare, Ciaschini non è mai stato il gestore in merito alla notizia di ieri sulla irreperibilità di Giovanni Ciaschini, 71 anni di Fano condannato l'altro ieri in appello a tre anni di reclusione per l'incendio doloso del Night Bolero, ci scrive il Marcello Avvocato Cecchini. Va precisato che il dottor Ciaschini non è mai stato gestore, titolare o contitolare o proprietario di Night Club. Poi sulla pagina di Pesaro invece l'hotel Principe, l'hotel Principe da battere, sogno di dargli la prima picconata. Il sindaco entusiasta della disponibilità della proprietà a buttarlo giù. L'amministrazione organizzerà un incontro la prossima settimana. Palpeggia dieci alunne in classe, ha processo un professore di informatica. I fatti sono avvenuti all'agrario nell'anno scolastico 2012-2013. Secondo l'accusa il docente toccava le parti intime mentre faceva la lezione. Ancora dal quotidiano, no cambiamo giornale, andiamo sul Corriere Adriatico. Ci vuole un'altra magia di Valentino. Graziano Rossi in partenza per Valencia. Una situazione triste che però ha acceso nuovi entusiasmi. Mi piace quest'idea della terra dei motori. Lo trovo un progetto interessante. Poi anche Ricci verrà a Tavuglia. Pesaro città della musica, Vimini è già pronta la cabina di regia mentre sempre a Pesaro incontri per conoscere cos'è l'affido familiare. Andiamo adesso sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico. Anche qui la notizia del sopraluogo della Commissione allo Stadio Mancini. Poi sotto stop ai tifosi il caso in Parlamento. Interrogazione ad Alfano dell'Onorevole Ricciatti. Danni alla parte sana del pubblico. Fumata nera in prefettura, gli autisti di Solaris in sciopero, niente stipendi per intoppi burocratici. Intese su Croce Rossa italiana invece è One Emergenza. Poi sulla pagina di Pesaro invece ladre tradite da una fotografia. Tentò di investire un uomo dopo averlo derubato. Arrestata il capo della banda di donne. Si chiama Lidia Jurdevic, 35 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ha utilizzato, pensate, 29 identità diverse. RIS, il sangue di Ismaele nella scarpa di Mario. La relazione tecnico-scientifica di consulenza biologica del RIS, della capitale, sull'efferato omicidio del 17enne di Sant'Angelo in Bado, Ismaele Lulli. Poi, sempre per quanto riguarda il Corriere Adriatico, l'altra pagina di Fano, ambito sociale, scontro sul debito fuori bilancio. La pentastellata, cioè Marta Ruggeri, che fa parte del gruppo 5 Stelle, ecco perché viene chiamata anche pentastellata, qui serviva un commissario. L'assessore Barnese invece scelte giuste e doverose. Fanesi in giunta, critiche agli assessori part-time. Ritrovate le slot machine e il fuoristrada rubati, erano poco distanti dall'arci di Tombaccia dopo i furti dei giorni scorsi. Poi il progetto natalizio ha anche finalità solidali, culturali e religiose. Il presidente della Proloco difende l'idea dell'innovativo albero dipinto. Schiaroli invece si schiera tra i contrari, ritenendo la proposta adatta al Carnevale e chiedendo morigeratezza. Andiamo sull'altra pagina, quella di Fano e Valle del Cesano. da Monte Maggiore al Metauro, Smart Wi-Fi per 5 comuni. Il progetto permette la navigazione in rete con autenticazione dei social network. Poi invece dalla pagina di Pesaro del Messaggero la sanità in primo piano, visite, prime prenotazioni dai medici. Parte la sperimentazione per abbattere le liste di attesa, il CUP destinato a scomparire il centro unico di prenotazione. Coinvolti per ora uno studio associato per capoluogo e specialisti in patologie sensibili. Sotto invece un consiglio a Valle, l'ultimo aveva 9 anni. Se il popolo giallo è alle prese con la calda trasferta di Valencia, anche il Grazia, cioè il papà, così soprannominato e soprannominato con cui Valentino ha sempre chiamato il padre Graziano, sarà al Riccardo Torno. Poi arrestata la boss della gang Rosa, la vittima l'incastra, al comando di una banda tutta al femminile specializzata in furti e rapine nelle abitazioni. Sotto fusione il referendum. Sarà un affare da 225 mila euro. In moto la macchina organizzativa. Il 13 dicembre il voto riguarderà Pesaro, Monbaroccio e poi altre due località che vogliono fondarsi, Urbino con Tavoleto. L'altra pagina invece del messaggero, anche qui in evidenza le visite, prime prenotazioni dai medici, poi coinvolte nella prima fase anche degli specialisti in oncologia, diabete cardiopatie. Il CUP, come dicevamo, è destinato a sparire. Poi la pagina di Pesaro-Urbino invece in manette, ecco la fotografia anche, non solo la fotografia della conferenza stampa, vedete qui anche il capitano della compagnia carabinieri di Fano, Alfonso Falcucci, ma anche quella del capo di questa banda tutta al femminile. Arrestata dai carabinieri, una donna al comando specializzata in furti e rapine nelle abitazioni. Ha 35 anni ed è stata arrestata dai carabinieri di Fossombrone dopo due mesi e mezzo di indagini per il furto degenerato in rapina del 18 agosto scorso nella frazione di Tarugo. E se qualcuno la riconosce e magari ha avuto a che fare con questa donna può sempre contattare appunto i carabinieri. Andiamo sull'ultima pagina, quella di Fano del messaggero. Anche qui ecco come il Mancini diventerà uno stadio a tutta sicurezza. Ieri c'è stato questo superluogo della Commissione di Vigilanza allo stadio. C'era anche il sindaco di Fano con il presidente della squadra di calcio fanese, mentre l'assessore, il neo-assessore Cristian Fanesi, dopo i tafferugli al termine dell'incontro con l'Assemblea, le direttive sono quelle di evitare nuovi disordini. Sull'albero di Natale invece polemiche infondate. Ecco come sarà, però adesso va bene polemizzare, va bene criticare, va bene tutto, può piacere può non piacere, però criticare così basandosi semplicemente su un disegno, su una fotografia, insomma prima di tutto io credo che bisognerà aspettare di vederlo. Poi uno lo vede con i propri occhi, fa una valutazione e poi decide il limite, su un disegno un po' così prematuro. Allora, lavori per rinfrescare le strisce pedonali e i segnali partiranno domani e riguarderanno 10 km di strade in vari quartieri. È sempre fondamentale e importante che la segnaletica si veda nelle strade. A Fano purtroppo è sempre stato un problema. La segnaletica stradale è sempre stato un problema perché, non so, o si usa una pittura che dura pochissimo perché credo sia del tipo ecologico che dopo bastano qualche giorno di pioggia e già comincia a sbiadirsi, insomma. Però sta di fatto che da noi le strisce in città si vedono sempre poco ed è un problema. Ritrovate invece vicino a Bologna fucili da caccia rubati a Fano. Ecco l'altra notizia che troverete sulla pagina fanese del Messaggero. Sono stati ritrovati a Bologna. Si tratta di diversi fucili da caccia trafugati nei giorni scorsi ad un 67enne di Fano che li deteneva regolarmente in casa. Era l'ultima notizia di questa nostra segna stampa di oggi. Grazie per averci seguito. Vi ricordo stasera alle 20.30 il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e poi ancora una volta vi ricordo che c'è l'applicazione del nostro telegiornale, un'app utilissima che si può scaricare anche se avete un iPhone. Prima una o sistemi Apple. Prima era solo per Android, adesso non solo Android ma anche Apple. Quindi andate nell'Apple Store, scrivete Occhio alla Notizia ed è gratis. Scaricatela perché può tornarvi utile. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi. Grazie.